Con il sindaco di L'Acquameno Giacomo Pascale, passata la tempesta del fine settimana, quest'allerta meteo con gli sgomberi a Casamicciola, si cerca di ritornare a casa con il conforto degli esperti. Qual è la situazione a L'Acquameno? L'Acquameno aveva 12 sfollati, 4 ordinanze di sgombero che però erano legati allo stato di emergenza, quindi possono rientrare. A Casamicciola è diverso perché le ordinanze non erano strettamente legate allo stato di emergenza, ma oltre 400 immobili hanno anche bisogno di una valutazione puntuale da parte di chi è preposto per verificarne l'agibilità. La popolazione sembra aver partecipato in maniera abbastanza completa a questo piano di sgombero all'Acquameno come a Casamicciola, anche se non si può non sottolineare quanto dal punto di vista emotivo siano provati questi cittadini. Oggi c'è una tensione a mille, c'è il dolore ancora forte che non si riesce a rinvenire l'ultima dispessa, che tra l'altro è pure di L'Acquameno. Oggi la vera emergenza rimane quella. Poi la notte che abbiamo avuto il cattivo tempo, immagino anche voi, come me, come tutti, abbiamo avuto tante telefonate, delle persone che con paura, con preoccupazione hanno chiamato, ma non solo da Casamicciola dell'Acquameno, ma anche da Forio, da Punto Imperatore, piuttosto che in altre zone. Chiaramente oggi il clima è un clima di paura. Un clima di paura che però deve in qualche modo guidarci a vedere anche il prossimo fine settimana con grande attenzione, attese nuove piogge. Dovessimo guardare le previsioni del tempo, si parla addirittura di 10-12 giorni di pioggia, magari non pesante, pesantissima come quella dell'ultima settimana, però abbastanza continua. Ma qui al COC arrivano le informazioni sulla pioggia, sull'allerta medio, ogni giorno. Quindi la situazione sotto questo aspetto è sotto controllo. È chiaro che l'auspice è quello di andare avanti e di procedere quanto prima, innanzitutto, a rinvenire la persona ancora dispessa, poi a mettere in cantiere quelle opere per eliminare il rischio residuo, perché chiaramente l'allertamento meteo preoccupa proprio perché c'è ancora un rischio residuo da mettere in sicurezza. Stamattina si parte con questo sistema di monitoraggio per i primi due punti importanti, all'avanguardia, quindi a Via Celario e sulla Statale, e questo è già un buon segno che la situazione ci ha mettenuto sotto controllo. Ovviamente immagino che la situazione che le prema sempre promuovere sia quella di attenzionare anche l'alveo della rita. Ma non solo, oggi stiamo attenzionando tutto perché smottamenti, frane, cedimenti stiamo avendo in ogni comune dell'isola. Si parlava sempre della rita perché Cava del Monaco innesca nella rita, poi la rita era stata particolarmente martoriata e osservata dalla notte del sisma per i noti accadimenti che già avete riportato anche voi. Chiaramente oggi questa situazione deve essere monitorata, ma come deve essere monitorata Cava Scialicco e tutti gli altri alvi che sono pericolosi e da attenzionare. Appare evidente che la massima allerta e attenzione per ovvi motivi rimane su Casa Miccial.